ragazzi vi devo chiedere scusa scusatemi perché la longest parkour non so se qualcuno di voi la presente la serie parkour che ho iniziato a fare non verrà portata avanti sul canale per un semplice motivo per il fatto che il secondo episodio per sbaglio l'ho eliminato prima che finisse il caricamento del video appunto e quindi potevo caricare solo una bozza del 71 per cento del video non aveva molto senso dato che probabilmente stoppavo a metà un discorso e non era bello e quindi ho preferito eliminare tutto il video anche i video che verranno dopo perché non ha senso perché non vedreste 40 o 50 livelli e comunque in ogni caso ho eliminato anche il primo video perché lasciare un video soltanto infatti adesso devo far vedere adesso andrò su playlist la commissione veramente scrausa farò così modifica e farò elimina playlist perché semplicemente la serie non esiste più e comunque dovevo anche mettere una play sta calmo devo mettere qua terminata e ok perfetto poi torniamo su playlist vediamo quale altre cose c'è da fare va bene poi sono tutte serie che questa è la situazione del mio canale se vi interessa comunque ho fatto questo video per scusarmi di questo piccolo inconveniente registrerò un'altra mappa parkour tra un po' si uscirà tra non lo so una ventina di giorni spero perché comunque devo prenderla tutta pre-registrarla perché non ce la faccio alla scuola non ce la faccio proprio a fare un video in Italia per carriaro mi facevo in estate non ce la faccio proprio mi scuso per questo però comunque spero che la nuova serie porterò vi piaccia quindi come vi ha fatto 20 visualizzazioni per me eliminare un video da 20 visualizzazioni è una cosa che mi rimane qua mi rimane qua comunque io vi saluto ci vediamo alla prossima serie parkour a malincuore e ciao a tutti a tutti